Morto Scarponi, i funerali martedì, è partito tra gli applausi nel tardo pomeriggio dalla camera mortuare dell'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, diretto a Filottrano, il carro funebre con il feretro del ciclista, nella città del campione il suo fan club ha allestito nel palazzetto dello sport una camera ardente in cui la barra resterà esposta fino a martedì, quando, nel pomeriggio, saranno celebrati i funerali, un interminabile applauso il team Astana con il lutto al braccio schierato in prima fila, emozione e lacrime durante il raccoglimento per salutare l'atleta vincitore del Giro d'Italia 2011. Grazie